Cambio della guardia alla compagnia Carabinieri di Tirano. Il capitano Riccardo Angeletti è infatti il nuovo comandante. Nato a Roma nel 1991, laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. Fra i suoi incarichi anche una missione in Iraq per l'addestramento delle forze di polizia locali. Oggi l'incontro di presentazione al comando provinciale. Il capitano Riccardo Angeletti prende l'incarico sabato 30 e inizia il suo percorso come comandante del reparto. Si succede nell'incarico al capitano Rossi che ha lasciato il comando a metà luglio perché è designato dal comando generale per partecipare ad una missione europea in Niger, in Africa alla quale sta prendendo parte ormai già da diverse settimane. Questo testimonia l'impegno dell'arma a impegnare i propri ufficiali e tutti i propri militari anche in territorio estero. Il capitano Angeletti ha comandato anche la sezione catturandi del nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Napoli. Ora per lui questa nuova esperienza valtellinese. Come tutti i territori di confine sono aree particolarmente sensibili dal punto di vista della prevenzione e laddove necessario della repressione. Arma dei Carabinieri che fa del dialogo con le istituzioni e della vicinanza ascolto dei cittadini uno dei suoi punti di forza. La prossimità al cittadino, la vicinanza al cittadino rappresentano oggigiorno così come ieri il focus principale dell'istituzione e su quello investiremo e indirizzeremo le nostre forze. Il capitano Luca Rossi che guidava appunto la compagnia di Tirano si trova ora nel Niger, stato africano nel quale a fine luglio un colpo di stato dato avvio alla crisi politico istituzionale che sta destabilizzando tutta quella regione.